Per inserire nel registro delle note cliccare sull'apposita icona oppure sull'apposita voce del menu. Cliccando su per data posso inserire una nota per data. Cliccando su multiple per data inserisco più note ad allunni differenti per una stessa data. Cliccando su tutte le mie vedo tutte le note che ho dato. Cliccando su del registro di classe visualizzo le note che sono state da me data degli studenti ma anche quelle dei miei colleghi. Per inserire una nota disciplinare devo selezionare per data se si tratta di un singolo alunno oppure multiple per data se si tratta di più alunni. Selezionato il giorno e l'alunno corrispondente controllo la data. Inserisco la materia. Scelgo nota disciplinare. Se voglio che la nota sia visibile anche nel registro di classe condiviso con i colleghi metto la spunta su registro di classe. Nella sezione nel campo di testo descrizione per la scuola scrivo tutte le motivazioni che hanno portato a dare la nota allo studente o la studentessa. Su descrizione per tutore alunno scrivo la comunicazione che deve arrivare alla famiglia. Fatto questo devo mettere la spunta su visibile in area tutore. Compilati i campi necessari clicco salva. Per visualizzare le note date clicco sull'icona note, scelgo tutte le mie e vedrò tutte le note che ho dato. Grazie. 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 Grazie.